A tutti i ragazzi, no bye Io sono Artifact, sei benvenuti in questo 25esimo episodio di Unione dell'ultima di Unione di Storm 3 25esimo episodio di Unione dell'ultima di Storm 3 Full burst, perché abbiamo un burst Ed è pieno E in pratica questa qua sarà la battaglia di 5 Kage Con capo Tsunade contro Uchiha, Mother E probabilmente questa sarà una battaglia molto lunga Quando vuoi tu, eh Sì Allora Questo è l'ultimo capitolo, per chi non l'avesse visto Oh, scommesso sul futuro E questa è una battaglia a boss, ci saranno solo battaglie a boss da ora in poi, quindi Oh, che bella cosa Sono due, vabbè Qua c'è Tsunade E qua ci partiranno, mi sa, una sfizza di screenshot Muta però, dai No, ma anche questo qua non è un video Ah già, non inizio So, che mi stai facendo mutare a fare I 5 Kage a dentro Ah, ma non esagerare, te la stai portando Sì, no Ah, bello all'inizio Ah, non so quanto dura sta battaglia Minimo 10.000 Oh, mamma Ops, sono sbagliato Non sento niente Non sto spaccando, porino Madara Sì, ma ti ricordo che lui ha 5 vite E voi siete solo 5 E perché tu hai solo 2 supporti? Dove sono gli altri? Che figa hanno fatto? Eh, ora vivo, è una battaglia a boss Che succede tutto Ah, ecco ora vivo Intanto mi carico un pochettino Mmm, niente male Sono qui La cosa Sono qui Che cosa Sono qui Sono qui Non senti anche il rumore È pazzesco Bella La terra La terra Oh, mamma Boom Giù nel canestro Let's go beach Questo qua in pratica Siamo arrivati a Skypera Sì infatti Ora spunta Nero Oh bene la seconda parte Meiterumi È Tsunade È Raikage Che è un Nero Ora faccio vedere che vi serve Ah ma forse me lo faccio vedere Sì vabbè Ok guarda Scendi da là Bastardo di disco Boom bitch Bellissimo invece troppo Volevi scendere tanto Perché se sta sempre là No vabbè Ah ero Eh sì Volevo scattare una foto Guardate che questo scontro è bello Gli scontri si vedono più belli Anche dei video Mokuton Oh fuck 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 Scendi da là Ti ho detto Scendi da là Ok perfetto Ecco che cosa serve Raikage Moria Sto facendo abbonare Sto rimbo Con un fattore Ancora gli ho tolto solo una vita Sai Ora sono due Alla gli ho tolto pesante Meiterumi comunque C'è un'altra C'è un'altra cutscene Sì Io mi volevo ricaricare la vita Oh mi figo Ma perché esce Sempre il momento sbagliato Oh Ha bruciato tutto Ora penso che c'è Ora Guarda Zuchikage Zunale Eh beh ci sarà sempre Raikage Sempre Zunale Verro Hai Raikage sempre Infatti Sì Sì Umi quanto mi piace sta mossa Boom Bitch Hai il bototto Quasi un'altra vita Madara Ah Umi ti sei accorto Che tipo spunta sempre Ka Sì sì In gara compare sempre Maddio maddio Anche tu ci stai senti Sì Ci siamo messi pure le pozioni Così almeno Secondo me Non si sa mai Non scendi la Mamma mia Vabbò Oh Attenzione che quello fa male È un legge a fiamme È umano Adesso ci sarà un'altra Cut Cut Boom Bici E quindi Sono pronto per fare un catturo Vedi col catturo Sei pronto Basta giocare Cioè vedi scelgo sempre un momento sbagliato No si ma c'è un'altra Ma in un mini video Penso Sì infatti Bellissimo Sembra tipo Max Sì Questo è il Susanho Di Madara Sì ma anche se Noi l'abbiamo superato E nell'anime Ci saranno cinque Susanho A testa Per i cinque Kange Oh una figata Io lo so Posso usare la mia potenza Per un'apertura Ma che stivali A la Misukami Troppo figli Stivali a proporzione Via Booo Iron Man Ah eh eh Pa 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 Perché eh eh Ah ok Stavo dicendo perché lui sta volando Poi non l'ho Non l'ho visto Ci siamo nel finale Ovviamente noi prendiamo sempre Oh mio Dio leggenda Ah ok aspetta Insomma mi sbaglio era facile questo Vabbè si tanto prendo 10.000 a testa Scusa mai perdo Io Ti facciamo Ah ok Tanto già il catturo ce l'abbia Giocato tranquillo ma la bella posso usare il mio tubo il giudizio di insomma non so come si chiama su una del fatto io ho letto fatemi venire questa volta pengeri si risponde no spazio mi leggero l'attengero d'accordo non schiava l'attacco ora usa l il basso si chiesa il mondo vado a scuola scuola sento che ma che ma solo perito lo sai ma anche il valore della vita come fare una vita ho sbagliato con messo insieme eh non lo so oh cazzo mi sa che ho sbagliato di brutto lo sapete quindi sei fregato no mi piace di più la momentà in cui c'era solo tsunami ah hai messo la leggenda forse no infatti ho sbagliato non è questa la cosa vabbè messo la leggenda è ancora meglio no mi piace di più quella poi mi serve anche all'oro ah come il misuga guarda come gioca il coniglio e ti massi e ti massi no dai mi faccio ammazzare apposta forse perdo anche questa momentà lo sai ah l'attacco si spezza difesa boom boom vabbè spacca il sto sto susano ah si comunque se è perduto sconciliatissima sconciliatissima boom boom cosa incazzate la bestia perchè ha tanti ying e yang che gli girano nel petto quindi io sono tau banane volano ah ok dai li sta vogliono un'altra vita a madara oddio dai fai uno spezza segnalare diventa molto difficile comunque forse non ce la faccio con la vita il minimo oh bravo si incazzano la bestia questo in pratica è quello che succede nell'animo che in pratica gli stavano spaccando ai pugni lo stavano lo stavano la fine poi si poi si arrabbia nooo questi sono un pochino peggio questo qua non era successo ad esempio nell'animo io perderò qua lo so il piruetta della morte ecco anzi non mi leva a seguire attaccate voi va li stai usando? si che cos'è lbrb? che lo stanno facendo? ah che stanno attaccando più o meno vai sono piuttosto stimolato bella vai spaccagli sto vetto forza dai con il genio vai 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 mamma mia la battaglia di 8 minuti e 57 però uuuuh stavolta non mi prendi stavolta non mi prendi piruetta dei gelati stavolta non mi prendi vai vabbè lascio fare tutto a loro mentre io schivo eh questa non me la ricordavo nooo però sto perdendo io no devi fare solo un altro colpo volare di tutto cerchio 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 eh grazie c'ha 3 quante scudi ha? 3 scudi questo ce la posso fare se non mi attacca 2 no ecco infatti lancia fiamme oh ma che caspita c'è un vincitore si ok se faccio riprovarmi vabbè lo posso rifar più vai eh vabbè dai eh vabbè ci starò due secondi stop ehm si torna al checkpoint ma dice no quale checkpoint? quale checkpoint? quello che sto pensando io non penso no è impossibile no no da 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 quando si si mi raccomando non no 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 vabbè abbiamo finito il capitolo dovrebbe iniziare per lo stesso capitolo no? sto scherzando eh 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 no stoppa il video eh si continuiamo la cosa eh 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 assolutamente si ok riccoci qui dopo un fail di quelli tremendi lui ora legge leggendo eroe questo è un'esplosione cosa che vuoi fare che vuoi fare un'esplosione allora dovevamo fare roba perché lui scegliere il più facile ok c'è che figlia suonare un'idea 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 altra scelta vabbè non mi interessa ho saltato abbastanza video ma non mi interessa stiamo registrando non puoi saltare video un gramma di 12 minuti era lo stesso non abbiamo solo qualche parola sei già morto sono l'aldilà sedino con la nuvoletta guarda per guardare la mia vita guarda ma perché cresce così ho trovato il mio il conto duro il conto duro è il sigillo a qualche secondo sore da chiesa ecco è già finito ma è la stessa cosa lo stesso scontro di prima si solo con il potere del mio boku del mio oso come mi insegnano si un sigillo vabbè in pratica è la battaglia per i nabi no è la battaglia buona perchè anche l'altra potevo vincere è che ho giocato male per cambiare no sto scherzando vai vai e poi da dopo il lungo fail che abbiamo fatto da una potenza di attacco non so se è notato la mia vita ma era al maschio era al maschio ok e la prima cosa ce l'abbiamo quasi toltta aspetta mi ti ha preso certo che ti ha preso perchè è così scarso e l'abbiamo fatto non mi vengo anzi ti spacco io lì nel frattempo quelli continuano ad attaccare sempre forever and ever si vabbè attaccano non gli fanno niente solo io li posso fare oh ok ora incominciamo a sfasciarlo di lignato pezzo difeso colpito l'ora stavolta se non prendo S sono finotti e Emanuele ha perso a me ma ma ah si già Artifix ha perso a me cosa ho fatto ho perso a te no ha perso a me no perchè io non io no solo tu sei finotto noi che abbiamo qua c'è così no c'è che tu mi hai fatto hai detto si quando ti ho detto no dobbiamo arrivare ecco ti ho detto si e il file è anche tu non è vero la tua è la decisione io non ho i due stick ma si ma io te l'ho chiesto che dici facciamo questo che dici facciamo questo però non funziona niente il sigillo se non se mi faccio più cosa infatti queste scarse me che colpito bravo sono tre cosa lancio se lancio col triangolo le nuvole tesa stiamo che schifo lo smolto per le uova no lancia fiamme eh non mi peghi vai 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 non sbaglio ah no ne rimane uno trottola gam gam ok c'ho il mio boku che lo sto spaccando di legnate il mio boku come che aspetta si chiama sto sigillo 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 da inizia con la M questi il nome del sigillo ok ora si arrabbia ora fa cadere meteoriti lo sai ah si abbiamo visto prima prima anche per te c'è ma che fico questo andate meteoriti non mi hai preso oh oh come ti colpirebbe con l'enorme no no con l'enorme penso sono solo bellezza si lo so ci manca il rap ok ok sono cinque ma poi non mi prendi allora io aspetto prima di distruggergli un po' la difesa poi quando sto per distruggergli la difesa attivo il mio coso ma chi hai che fa le fiamme lui si all'interno sta spaccando il su su stiamo andando mi sa che aspetterò un'altra volta mi sa che aspetterò un'altra volta mi sa che aspetterò un'altra volta colpi così poi mi metterò solo a schivare per un pochettino tanto che non è difficile schivare i suoi colpi no no è facilissimo era sarcasmo no no è facilissimo attento alle granate tanto ormai è finito no no di nuovo forse lo devo riattivare il mio ma un po' il capro oh ma che caspita ma qua partono colpi ok e siamo sempre a 2 nel frattempo questo sta succedendo questo sta succedendo l'inferno tipo l'apocalisse di Naruto ma questa cosa mi fa ricariare tutto mentre si sa che cosa allora intanto devo stare a tentare certo chiaro va siamo a te mi s'è fatto colpire ma non mi ha colpito anche dalla spada mi dispiace ti ha colpito anche il siciliano adesso ci sono il corpo colpo questo qua non devo fare un'altra se sei un altro ma dai fa tanto ricarichiamo qua bene ci sta entrando là dentro si fa un po' che gli altri ho iniziato, forse inizia la cutscene ah no, vabbè ce l'ha troppo dai un altro mio coso senza che mi faccio colpire mamma mia lo sai che ora è tipo velocissimo a lanciar fiamme vai vai sono a 4 ora vattene fa dalla mia vita si forse ne serve un altro proprio per prenderci esse e allora noi non prenderemo esse no dai che cazzo gli ho lanciato no no ma ce la faccio a farmi un altro è tutto fatto già poi fa ste mosse babbe con lui e lo sai che non gliel'ha dato il colpo era si lo so aia 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 basta basta l'ho ammazzo no troppo vabbè ho preso il colpo strattolina strattolina tutto non è sarà su un cartellone che fa oh vai vai spacchiamo tutto ah cosa ci aprendiamo adesso si pensi di si avanti guarda qua c'è la cutscene vai tanto già l'ho fatto l'ho fatto che è fregata la cutscene aaa me aaa me aaa aaa allora qua devo stare attenso che perdo vita mi incazzo mi incazzo vai scriviamo tutte cose poi non guardate le frecce le guarderemo noi aaa mi incazzo dai ma ora ce ne uno tipo impossibile forse hai sentito che ho detto si cam non è giusto dai spacchiamo tutte le cose agito ah vabbè abbiamo quasi finito dai ultime tre cose ci saranno adesso c'è tipo il super pugno di zunad te la che figata te la che figata qua qua c'è l'alleggerimento rappresentamento di un sacco di cose qua ma sai che ci saranno anche un sacco di cose tipo ecco ahahah guarda qua ora ha spunto questo gli da un colpicino così tanto per tanto per fare scena tanto per fare scena ora arriva alzunale boom boom questo non gli fa niente ci sei si infatti ora arriva alzunale tipo super 6 è un 4 troppo forte guardate da dove arriva e guardate come arriva caccio di no aspetta com'è coso celestiale qualche cosa il castigo celeste guardate che figa guardate che figa guardate che figa sta scena ormai che si è rotto un po' lì che penso boom ah aspetta ma sta scena pure è troppo figa anche nell'anime nell'anime no gli dovevano fare il sigillo si è il sigillo si questa c'era quando ci spuntesse il giro che è un po' figa ah vero quella che in pratica puoi bevi disegnare si ah vabbè abbiamo oh sbomba che succede si si guarda no guarda dove è madara no dove è madara ah aspetta madara non c'è più all'interno della della cosa sta volando nei cieli nel gioco su skype nel gioco nel gioco fa così vabbè succede vabbè non così però lo riescono a distruggere in pratica adesso madara è morto no vabbè non è morto è vivo però tipo si arrende dici sono troppo forti si sono troppo forte mantiene la barra eeeh s se non mi prende s e ti spacco l'anime già 100% lol lol tagli uno screen no ok la piatta del pisolino attenzione raggiungiamo il salvataggio in 3 oh bello mi piace fattone segreto siamo arrivati a 20 minuti immagini ninja immagini ninja che poi che fanno schifo queste immagini carte ninja sono 10x10 per 360 cosa? ma smonto quella lampadina eh tu non la metti il cucinetto è troppo bene va bene la prossima volta ti faccio sidere nella sedia fra 3 2 1 nooo un video un altro video attenzione quindi ci mutiamo ah anzi questo va infatti dai sfottiamo a madara sfottiamo a madara oh sono un po' sorpreso ho sfigato è finito fuori a danza di lince una mattara ridiviamoci cioè in pratica mi state facendo capire che che l'altro madara è più forte del vero madara quindi non è meglio ritirarci va beh si ritirano capito capito mi è stata un'altra una battaglia intensa capito loro credono che chiuderò la partita una volta che c'è loro credono che l'altro madara è più forte di questo madara te la dai gambe, non direi è remita delle sepie si è remita delle sepie andiamo abbiamo fretta, 10 minuti è remita delle sepie ho vito, è remita ho vito, succhia tutte cose anche per ora gay muore anzi non per gay si sbriciola gay diventa genere quasi gay fuma troppo basta oh qua c'è un salvataggio mi sa si qua si può salvare in giro infatti finalmente addirittura salvataggio no 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 ora devo arrivare dove ho detto io è stato siamo arrivati a 20 minuti quindi noi ci vediamo al prossimo episodio non staccare mettete mi piace salva mettete mi piace ciao ciao ciao